Paolo Muratori, presidente dell'Associazione Diabetici di Pesaro, continua il ciclo di incontri di diabete ieri, oggi, domani. Giovedì 10 novembre un appuntamento particolarmente rilevante, quello dedicato al diabete in età infantile. Sì, diciamo arriva Valentino Cherubini che oltre ad essere primario del Salesi, ma credo che per noi di Pesaro sia molto importante perché quando si scopre questa malattia viene proprio dalle scuole, i genitori arrivano da lui e sotto questo profilo credo lui copre tutte le marche e poi è diventato presidente nazionale di endocrinologia e pediatria. Io ritengo che i vari appuntamenti che noi affrontiamo a Pesaro, a Villa Borromeo, sono dovuti alla qualità perché il problema del diabete è un problema molto difficile da affrontare, le famiglie e questo sul diabete 1. sapete benissimo cosa vuol dire avere un figlio in casa con dei problemi, ma non solo per loro perché nel diabete 2 nascono gli stessi problemi, bisogna mangiare meglio, bisogna andare a camminare, poi tutto questo si rinuncia, si guarda le pilloline, ma invece a Villa Borromeo abbiamo istituito un programma dove due o tre appuntamenti con dei personaggi come in questo caso c'è Valentino Cherubini, c'è il dottor Simone Spriello, c'è la dietista che spiega l'alimentazione e che andiamo a cena perché poi ceniamo anche a Villa Borromeo. Ed è diciamo, rimanendo in tema alimentare, una sorta di antipasta quella che è la giornata nazionale del diabete del 12 e 13 novembre che vi vedrà coinvolti in Piazza del Popolo. Beh, diciamo che questo è un appuntamento importante ma perché è un appuntamento mondiale in quanto in America scoprirono l'insulina cent'anni fa, quest'anno siamo il centunesimo anno perché io anno scorso proprio a Loreto abbiamo fatto la presentazione di ATDM Marche sotto il profilo di quello che è il problema, che con quell'invenzione da quando c'erano le siringhe di vetro oggi è tutto cambiato il mondo, per il diabete 1 è un problema più all'avanguardia perché è entrato l'ingegneria, ci sono dei microinfusori e noi siamo in Piazza del Popolo è tutto gratuito, facciamo gli stick sabato e domenica mattina sabato dalle 9 alle 12, 12 e 30, al pomeriggio alle 15 fino alle 18 e 30 o 19 secondo la gente e domenica mattina finiamo alle mezza, dalle 9 alle mezza. Credo che i pesaresi non dovrebbero mancare perché noi siamo anni che stiamo lavorando su questi progetti, questa associazione dal primo di gennaio entra nel 35esimo anno che questa associazione lavora a Pesaro. Noi cerchiamo di lavorare in miglior dei modi, aspettiamo anche da parte della sanità queste innovazioni che i diabetici da Gabbici a Monbaroccio, compreso Pesaro, siamo 10.000 prima del Covid.